Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Assessore Zaretti, buongiorno. Giovedì il Tare ha messo la tanto attesa sentenza in merito al ricorso post elezioni del centro-sinistra. Si torna alle urne per un ballottaggio tra Ghezzi e Barbieri. Lei sinceramente se lo aspettava? Ormai ultimamente avevamo capito che questa sarebbe stata la più probabile decisione del Tare. Certo noi abbiamo sempre difeso sia la correttezza dell'operato dei seggi anche se poi in effetti sono emerse realtà diverse sia soprattutto il nostro lavoro e la nostra vittoria per ben già due volte come amministratore della città. Ecco, lei più volte ha definito negative le conseguenze per la città in caso di commissariamento. Quanto c'è di vero in questi messaggi allarmistici che Ghezzi ha definito frottole del centro-destra e quante sono invece parte di una strategia politica? Quando si lavora non si dicono mai frottole. Penso di aver acquisito di fronte alla città una credibilità per quel che riguarda il mio lavoro e non credo di dire. Ultimamente stanno secondo me un po' esagerando quelli della sinistra tra stupidaggini e frottole sarebbe meglio che iniziassero a dire qualche cosa di concreto sulla città. Io ho lavorato per sei anni cercando di dare il massimo che potevo per rivitalizzare la nostra città e per portare avanti dei progetti importanti. La città li conosce, voi sapete come le piazze si sono sempre riempite di gente da quando abbiamo avviato un percorso di iniziative diverse per cui il riscontro cessato e la città mi conosce. Ci sono progetti come quelli del sociale che il commissariamento va a bloccare. Tantissimi altri progetti importanti che stiamo avviando che sicuramente subiranno un blocco e il problema reale oggi è che è il rischio ultimamente emerso che questo blocco sia molto più lungo di quello che sembrava. Purtroppo ogni ora si realizza qualcosa di nuovo in questo percorso che ci siamo trovati costretti ad affrontare perché voglio ribadire che noi abbiamo vinto il primo turno per 1500 voti più degli avversari. siamo andati al ballottaggio con una parte del nostro centro-destra per motivi che non voglio star qui a dire una parte del nostro centro-destra che comunque oggi si ritrova insieme unita a noi all'insegna dell'ideologia condivisa. Ci sono stati momenti di difficoltà di comprensione oggi io credo che li abbiamo quasi completamente superati. Escluso Aurelio Toriani? Aurelio Toriani è stato sintaco di Voghera per Forza Italia per ben due mandati è un uomo del centro-destra e io credo che in fondo anche Toriani non possa non sentire dentro sempre battere il cuore per il centro-destra. Le chiedo di elencarci se possibile quali sono i progetti che a suo avviso si bloccheranno a causa di questo commissariamento? Beh, oltre al progetto sociale che comunque io ritengo importantissimo perché i bandi emblematici della Fondazione Cariplo scadono il 31 maggio il progetto per Caprotti va realizzato in tempi brevissimi oltretutto la sigla dell'accordo con Caprotti non è ancora stato sottoscritto questo teatro potrà dare lavoro a tante persone potrà creare un indotto sul commercio della città e anche per quanto riguarda la revitalizzazione della città poi abbiamo naturalmente il progetto sicurezza io parlo naturalmente comunque di iniziative che riguardano i settori di mia competenza abbiamo la sistemazione del palazzetto dello sport abbiamo la realizzazione di tutta una serie di iniziative che volevano essere la sistemazione di piazzetta Cesare Battisti iniziative riguardanti i lavori pubblici importanti per la nostra città Ha parlato di accordo con Caprotti accordo che salterebbe nel caso dovesse esserci una giunta di centro-sinistra questo dovete chiederlo con il sindaco e con Caprotti temo comunque che Caprotti abbia impostato un accordo con il sindaco che si basava anche su un credo reciproca fiducia e rispetto personale Manca poco alla Fiera dell'Ascensione soltanto tra mesi circa in caso di immediato commissariamento chi si ne occuperà? Bella domanda può anche non interessare al centro-sinistra ma sia al teatro sociale che alla Fiera dell'Ascensione che Voghera sotto le stelle che tutte le iniziative, la piste ciclabili tutte le iniziative che volevamo realizzare in questo periodo credo che tutti ci chiediamo chi e se qualcuno le realizzerà in questo periodo Quindi c'è anche la possibilità che possa eventualmente saltare la Fiera oppure no? Questa possibilità è da escludere? Non ve lo so dire non ve lo so dire se certo se dovessimo rimanere noi e il commissariamento avvenisse più avanti sicuramente noi andremo avanti a portare a realizzare tutti i progetti che abbiamo promesso alla città un commissario non vi so dire che cosa fin dove posso arrivare certamente non credo che arrivi a realizzare iniziative di straordinaria amministrazione o comunque che richiedano anche una fantasia organizzativa un'attività che va dal di là dell'amministrazione però onestamente ci toccherà provarlo Ecco, la luce di tutto quello che hai detto fino adesso che appello si sente di fare ai cittadini vogheresi? Di avere fiducia di tornare a votare e di votarci ancora è pazzesco dirlo dopo due volte che ci avete votato ma tornate e votateci perché noi veramente abbiamo nel cuore Voghera ci abbiamo messo tutta la nostra buona volontà stiamo lavorando per la città credo che pur con tutte le difficoltà legate alle contingenze economiche tali fortissimi eccetera veramente stiamo cercando di realizzare progetti importanti per la città ci crediamo e lo sapete in questi sei anni abbiamo sicuramente acquisito tutta la vostra fiducia la vostra credibilità per cui mi tocca dirvi di tornare per la terza volta e fare una X su Barribieri per la terza volta se volete che tutti noi e se volete ve lo dico sicuramente e se volete che anch'io vada avanti a lavorare per questa città tra le iniziative che secondo l'assessore Azzaretti non verranno più realizzate anche l'Iria Castle Festival eventi che venivano organizzati grazie ai finanziamenti ottenuti dalla fondazione Cariplo porta la tua azienda in questo video JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte